È molto complicato perché gira pochissima gente, quindi è sempre più difficile. Che ne pensi della nuova zona rossa? Speriamo che funzioni, perché abbiamo già fatto grandi sacrifici, speravo che fossero finiti, siamo ritornati a primaverare l'anno scorso praticamente. Quindi speriamo che sia l'ultimo sacrificio e ciò che ci costringono a fare. Speriamo. Beh sì, il momento è estremamente difficile, dove era prima sicuramente in zona rossa anche di più. Il provvedimento giusto? Beh, per come stavano andando le cose sicuramente. Speriamo che queste due settimane servano per tornare a parametri regolari e vivere in maniera diversa, più o meno normale. La gente è disciplinata? Diciamo che in questo momento è spaventata, questo si vede. Indietro probabilmente c'è stato qualche errore sia da parte dei controllori che di controllarsi. Il centro storico di Perugia, come l'intera provincia, è di nuovo in zona rossa. Che effetto fa? Beh, sicuramente non positivo, anche perché ritorniamo a un anno fa, quindi i ricordi non sono bellissimi. Sul vendita dei quotidiani ha un impatto? Ma guarda, per il momento, essendo anche il primo giorno, la prima mattina di zona rossa, per il momento è quasi normale, anche perché ho visto solo clienti miei abitudinali che stanno qui nella zona, quindi non posso fare un paragone. Grazie. Grazie.